Ciao, io sono Salvatore Iudica e sono il portiere della Nazionale di Calcio Amputati di ACSI. Adesso stiamo andando in una scuola dove parleremo dei bambini, come si gioca a calcio nonostante le stampelle, nonostante una protesi, perché faremo una vera e propria dimostrazione di calcio, ci metteremo a giocare con loro. Buongiorno a te, lui è Luca Zavatti, è un pilastro della Nazionale di Calcio Amputati, e in effetti è proprio il mentore della Nazionale, il capitano più grande di tutti. Arturo! Far vedere a questi più piccoli che esiste una diversità, esiste una diversità e non per forza è più brutta, è una diversità che forse è più bella, che va fatta conoscere e penso deve diventare una responsabilità che ognuno di noi si deve portare dentro e parlare con chi gli sta vicino. La cosa particolare mia è che gioco a calcio sia con le protesi ma con il doppio handicap, perché gioco con un braccio sotto una maglietta. Al calcio amputati il portiere gioca con un braccio sole, amputato di braccio. E' stato bello perché neanche a chiedere, io ho detto io gioco con un braccio così e mi sono messo il braccio sotto una maglietta, proprio in questo modo ve lo faccio vedere. E poi loro mi hanno subito imitato e si sono messi a giocare in porta facendo il portiere con un braccio sole e facevano pure le parate, erano pure i bravi alcuni. Quando capita con i ragazzi delle elementari è ancora più emozionante perché la loro spontaneità, i loro sguardi, le loro domande ti lasciano sempre qualcosa, sperando di lasciare a loro un messaggio positivo per la vita. Non ci sono né religioni né razza, l'amicizia, l'amore per lo sport e per la vita non hanno colore. Organizzare un evento così grande, il più grande del mondo, qui da noi, qui a Roma, tanto per me Romano è un'emozione incredibile. E poi sì, è un'occasione per andare avanti, per modernizzarci secondo me. Grazie per la visione!